Oh, bella! Allora come va? Ciao, c'è un po'. Hanno fatto i traiuti, era noi che vogliamo occupare. Stanotte voglio vedere se non mi piace pure a me come la sarà la tezzuola, che il secondo gli è pure piaciuto. Oh, ma siete proprio sicuri che hanno scopato? Ammazza. Limitavi pure dei fascisti quando siete a scuola. Quelli erano i fascisti? E certo! Tutte le nostre cose è confronto alle vostre tonde ricazzate. Solamente voi l'avete fatta la storia. Grazie a tutti.